Facevo una riflessione tutta mia. I nostri genitori negli anni 60 ballavano lenti, canzoni d'amore, canzoni strappalacrime. Poi è arrivato lo shake, poi la disco. Oggi si ha la tendenza alla distanza sociale. Certo che hanno fatto un bel lavoro con il depopolamento, tutti a distanza. Vietato a riprodursi, vietato a amare.